Ciao a tutti, io sono Fabio Letratti e questo è il mio punto venta. Sono infatti lo store manager di Toy Center Arezzo. Siete pronti a conoscere una nuova piccola amica? Vi do tre indizi. È bianca come un batuffolo, ha gli occhi azzurri e ama ballare. Curiosi di sapere di chi si tratta? Allora seguitemi! Furria al Go-Go di Hasbro è un'adorabile cagnolina interattiva che cammina e balla a ritmo di musica. Con oltre 50 suoni e tantissime reazioni non vedrai l'ora di passare del tempo con Go-Go. Divertirsi con Go-Go è facilissimo. Premi questo pulsante sul suo guinzaglio e la cagnolina si alzerà sulle zampe iniziando a ballare. Oppure premi questo tasto per portare la tua nuova amica pelosetta a fare una passeggiata. La testolina di Go-Go che dondola mentre cammina è semplicemente adorabile. Insieme a Go-Go riceverai anche un coloratissimo guinzaglio per portare questa simpatica cucciola sempre con te. Furria a Go-Go di Hasbro è il regalo perfetto per chi ama avere dei cuccioli pelosetti come amici. Con questa dolcissima cagnolina potrete andare a spasso, cantare e ballare. Insomma, sono certo che diventerà un'inseparabile compagna di giochi. Ma le sorprese non finiscono qui. Scopri anche Walkelots, cuccioli, Glamelot e Cabby, orsetto curioso. È stato un piacere presentarvi Furria al Go di Hasbro. Non mi resta che mandare un caro abbraccio virtuale e augurarvi assieme al mio staff... Buone feste! Buone feste! Buone feste! Buone feste! Grazie a tutti.